Per la Serie D, Girone H, anche in questo caso decima giornata, il Matera vince in casa in rimonta contro il Taranto 3-2. Doppio vantaggio ospite in apertura di gara all'ottavo, rigore concesso ai Tarantini per fallo di Pinna su Biondo dal dischetto Fumai supera il portiere di Casa Bianco. Tre minuti dopo il raddoppio ospite firmato da Curri, innescato da Fumai. Il Matera non ci sta e da subito prova la reazione, accorcia le distanze al 31esimo con Ceccarelli in campo da due minuti al posto di Silvestri. L'atleta Biancazzurro insacca da vicino di testa su cross di Pinna. Nella ripresa un Matera a trazione anteriore ribalta la situazione, minuto 15 in gol Todino servito da Marinucci Palermo. Quindi al 19esimo rete spettacolare di Ceccarelli che chiude definitivamente la pratica. Sempre per il massimo campionato dilettantistico, il Potenza perde in casa contro la Battipagliese 2-0. Gol realizzati in netta posizione di fuorigioco, il primo al sedicesimo. Lancio in area per Trimarco che a tu per tu con Della Luna non sbaglia. Il secondo invece al ventisesimo sempre con Trimarco che trova il tapin vincente sul palo colpito da Picarone. Infine Francavila sul Sinni che in inferiorità numerica pareggia in trasferta contro il Grottaglie. 1-1 il finale, vantaggio dei locali in apertura di ripresa ad opera di Pinto. Il pareggio dei Sinnici a 10 minuti dal triplice fischio con Della Ventura. In classifica Matera quarto con 19 punti, sempre a 5 lunghezze dalla vetta. Francavila undicesimo a quota 13, penultimo il Potenza a quota 5. Domenica prossima in casa Potenza e Francavila rispettivamente contro Inter Napoli e Pomigliano. In trasferta il Matera contro il Sant'Antonio Abate.